salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo appuntamento con le news domenica scorsa non c'è stato per via del games week andiamo a vedere quali sono state tutte le novità presentate in questa settimana partiamo dalla manifestazione più importante che riguarda il mondo dei videogiochi i day games awards i veri e propri oscar del mondo dei videogames anche quest'anno ho partecipato alla votazione dei titoli e non posso fare a meno di notare che soprattutto nella denominazione del gothi del game of the year ci sono sì dei titoli molto carini e che meritano di essere lì e parliamo di dead loop di una storia molto bella come it takes two resident evil village carico della sua forza e del suo nome che ormai viene da tantissimi anni psychonaut 2 e ratchet and clank ma proprio su quest'ultimo su ratchet and clank appunto ho un po da pensare perché mettere questo titolo all'interno della denominazione di gioco dell'anno e non mettere dei videogiochi come ad esempio uno su tutti forza horizon 5 assegnato il miglior lancio mai visto per un gioco di casa xbox ci sono tantissimi titoli che all'interno della denominazione game of the year vengono praticamente tagliati fuori questo accade perché quando si presenta un videogioco alla candidatura di game of the year lo stesso deve avere un'importante storia narrativa dietro una caratteristica molto importante per carità ma che va a tagliare completamente fuori tutti i giochi di natura sportiva in favore di un taglio cinematografico questo è andato a sminuire il lavoro di un intero settore quello del racing che non si può neanche avvicinare alla nomination di gothi ed è un peccato soprattutto vedendo il lavoro che quest'anno è stato compiuto con forza horizon 5 ma anche uscendo dall'ambito racing mi sarei aspettato più returnal all'interno di questa nomination piuttosto che ratchet and clank per nulla volerne a ratchet and clank ma returnal è stato un bel progetto molto coraggioso che avrebbe meritato ampiamente questa nomination io spero vivamente che dal prossimo anno si allarghino un po i confini soprattutto delle nomination molto importanti perché è ingiusto che giochi molto belli vengano relegati a una nicchia non premiati adeguatamente o perlomeno di poter concorrere all'interno di un premio di maggior portata xbox è stata nuovamente punzecchiata sul game pass un prodotto che a detta di molti non è economicamente sostenibile ad intervenire sulla questione è stato direttamente l'amministratore delegato phil spencer che ha voluto chiarire una volta per tutte come il prodotto non solo stia lavorando bene ma sia anche ampiamente sostenibile ancora una volta quindi spencer ha voluto sottolineare che il prodotto game pass non solo è sostenibile da solo quindi è pienamente autonomo ma che andrà a ricompensare ben più della famosa pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno come tantissimi scrivono sicuramente un prodotto molto rivoluzionario perché per la prima volta al mondo abbiamo un servizio che tu paghi e per il quale puoi giocare dei titoli anche al day one è un po la netflix dei videogiochi cosa a cui tantissimi altri servizi stanno cercando di avvicinarsi a me personalmente piace molto come strumento anzi vorrei che volvesse in un cloud gaming cosa che tra l'altro xbox sta già facendo e sta già sperimentando sulle sue console perché permetterebbe con un hardware di fascia media quindi per non andare a spendere tantissimi soldi di poter giocare a qualsiasi gioco si voglia in qualunque modo si voglia e nell'ambito del progetto cloud gaming da qualsiasi piattaforma si voglia per quanto se ne possa dire il futuro evolverà in quella direzione con l'aumentare delle connessioni a internet della loro velocità sempre maggiore il cloud gaming è molto più vicino di quello che in realtà possiamo pensare durante queste due settimane sono stati lanciati tantissimi titoli di punta uno fra tutti i code vanguard seguito da battlefield 2042 ed abbiamo avuto anche l'anteprima del multiplayer di halo infinite ultimo non per dimenticarlo c'è stato anche il lancio di gta trilogy uno dei titoli di cui più si è parlato nel corso degli ultimi mesi tutti questi giochi hanno avuto una caratteristica in comune la review bombing pesantemente negativa che hanno subito partiamo da code il lancio peggiore degli ultimi 14 anni alcune cifre diffuse parlano che addirittura ha venduto meno del 200 per cento di black ops un lancio così negativo non si era visto nemmeno nei confronti dei titoli meno apprezzati della serie parliamo di ghost o di infinite warfare piove sul bagnato in casa activision perché il lancio della stagione 1 di vanguard della nuova mappa di warzone viene rimandato non di tantissimo di circa una settimana la nuova data ufficiale è l'otto dicembre una piccolissima specifica chi possiede vanguard potrà accedere a caldera la nuova mappa dall'otto di dicembre tutti gli altri dovranno attendere il giorno successivo non se la passa meglio il suo competitor naturale battlefield 2042 che anche lui ha subito tantissime recensioni pesantemente negative con la media di recensione appunto per lo più negativa tutte queste recensioni negative sembrano provenire da due fonti principali una da chi ha provato la beta avendo lasciato degli strascichi un po negativi di quello che è stato visto però ovviamente era una beta non era il gioco completo dall'altro lato molti fan hanno lamentato della mancanza di contenuti rispetto agli altri titoli della saga che erano abituati a una ricchezza di contenuti maggiore rispetto a quelli che sono stati visti in questa uno su tutti la mancanza della campagna uniti anche ai commenti che riguardano la tenuta tecnica del prodotto che è stata ritenuta non soddisfacente le critiche non hanno risparmiato neanche halo infinite che nonostante abbia fatto vedere solo il suo comparto multiplayer ha suscitato delle polemiche da parte dei propri fan il punto principale delle polemiche è l'acquisizione dei punti esperienza che avveniva soltanto attraverso le sfide giornaliere settimanali a tutto questo gli sviluppatori hanno posto rimedio andando a rilasciare una patch che adesso permette non solo di acquisire i punti tramite le sfide ma anche alla fine delle partite oltre alla compagine multiplayer gli sviluppatori hanno anche annunciato la data definitiva del rilascio della campagna la stessa verrà l'otto di dicembre le 19 italiane ultimo gioco nominato in precedenza gta trilogy è stato forse il gioco con il lancio più disastroso in casa rockstar games qualsiasi piattaforma si voglia prendere in considerazione le valutazioni sono tutte al di sotto del valore 1 toccando 0,5 per il pc e addirittura 0,4 per le console si tratta dunque della peggior valutazione di sempre all'interno del sito di metacritic le critiche sono delle più svariate dalla quantità di bug di errori presenti assurdi ce n'è addirittura una in cui vieni arrestato mentre stai volando sulla città ed altre generate dal risultato finale che si è ottenuto ben al di sotto delle aspettative dei propri fan rockstar game si è scusata ha annunciato una patch che verrà rilasciata in questi giorni e regalerà le versioni originali dei giochi che torneranno negli store che erano state tolte a chiunque abbia comprato una copia di gta trilogy questo però prima del prossimo 30 giugno 2022 chiudiamo questa edizione delle news con le consuete pillole le notizie brevi che meritano di essere riportate partiamo da the elder scroll 6 e dalla domanda che tantissimi fan si sono posti se questo nuovo episodio della saga potrà prodare anche sulle console di casa sony a questa domanda ha dato risposta ancora una volta a phil spencer amministratore delegato di xbox che durante il corso della diretta che ha celebrato i 20 anni della console ha annunciato che non si tratta di punire altre console sul mercato ma che vogliono comunque tenere il pacchetto completo di the elder scroll in casa i fan dunque hanno ricevuto una risposta ben chiara chiunque possegga una console di casa sony ancora una volta non vedrà questo gioco a prodare su questa console ma bensì potrà giocarlo solo su pc e su xbox il reboot della saga di saint row è stato rinviato dalla vecchia data che era prevista per il 25 di febbraio 2022 bisognerà aspettare qualche mese in più visto il rinvio del gioco al prossimo 23 di agosto l'annuncio è arrivato direttamente tramite un post sull'account ufficiale twitter che è dedicato alla serie anche qui si è sollevata una piccola polemica febbraio è un mese in cui saranno lanciati tantissimi giochi uno su tutti elder ring un sul slide tantissimo atteso dai fan e dai videogiocatori di tutto il mondo e al di sotto delle risposte del tweet c'era appunto un utente che aveva scritto aveva postato una bella immagine di elder ring e sottolineato in maniera molto sarcastica come secondo lui il gioco sarebbe stato rinviato per evitare il confronto proprio con questo titolo a questo tweet ironico ma anche un po polemico hanno risposto gli sviluppatori stessi annunciando che il gioco non è stato rinviato per quello e anzi avrebbero sperato di lanciarsi insieme a elder ring augurando buona fortuna al gioco game rant ha riportato una notizia bomba ai prossimi the games award che si terranno come abbiamo detto in apertura di queste news il 9 di dicembre potrebbe essere annunciato un nuovo episodio della saga di the legend of zelda di norma su questo palcoscenico non solo vengono premiati i giochi ma ne vengono presentati anche dei nuovi quindi non è proprio da escludere che la casa della grande n stia puntando su un nuovo videogioco e magari proprio su the legend of zelda stesso quindi vedremo che cosa succederà a questi the games award sicuramente qualcosa l'andranno a presentare non ci resta che aspettare manca qualche settimana e ovviamente il solito riassunto sarà riportato qui all'interno delle news ebbene ragazzi anche questo appuntamento con le news termina qui a me non resta che ringraziarvi per l'interesse che date alla serie dandovi appuntamento domenica prossima sempre alle ore 13 sul canale di melagodo non ci resta che ringraziare